Hi and welcome back to my English lessons. Ciao e bentornati alle mie lezioni di inglese. Eh sì, da tanto tempo manco alle mie lezioni di inglese e quindi ho deciso di ritornare con dei podcast facilitati, soprattutto della mia serie Easy Grammar. E volevo affrontare con voi l'argomento alfabeto. Sì, direte voi di nuovo l'alfabeto. Sì, l'alfabeto è troppo sottovalutato. Molta gente pensa che l'alfabeto inglese serva per poter imparare a leggere. Invece no, l'alfabeto serve esclusivamente per fare lo spelling dei nostri nomi e cognomi o per chiedere alla madrelingua inglese se ci può fare lo spelling di un vocabolo che non riusciamo a capire in quel momento. Allora quindi per esempio chiediamo Excuse me, can you spell that word please? Mi scusi, mi puoi fare lo spelling di quella parola? Per esempio Excuse me, can you spell furniture please? Mi scusi, mi puoi fare lo spelling della parola furniture? F-U-R-N-I-T-U-R-E Ed è anche uncountable, significa mobile e mobili. Uncountable significa quel vocabolo al quale non possiamo mettere la S per ottenere il plurale. Allora come si fa a memorizzare? Ci sarà una puntata specifica, pure se io in passato l'avevo già fatto, sui uncountable. Sono semplici da memorizzare perché sono vocaboli della vita quotidiana che si usano molto spesso sia nella lingua italiana che in inglese. Ma bando alle ciance, come al solito dico io, e facciamo l'alfabeto, facciamo un bel ripassone sull'alfabeto. The International Phonetic Alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Come avete notato, la R, io l'ho letto A, perché non esiste la R, questa R vibrante italiana. La R vibrante italiana come si ottiene innanzitutto? Bisogna mettere la lingua sopra il palato superiore e farlo vibrare. Ok, questa vibrazione non dovete assolutamente farla in inglese. Quindi la lingua, dove poggia la lingua quando io devo riprodurre la R inglese? Nel palato inferiore, ok? E poi i lati della lingua vengono curvati e portati sopra verso i molari. Se ce l'abbiamo ancora, diceva il mio caro amico John Peter Sloan. Ok, e poi c'è la T, come per esempio, scusate, poi volevo dire, come per esempio il vocabolo car, car, red rabbit, rabbit, ok? E poi c'è la T, la T, la T inglese, soprattutto pronunciata dagli inglesi, non tanto dagli americani, ma dagli inglesi, è molto forte. Io dico sempre nei miei corsi agli allievi di prendere un foglio di carta, di stringerlo a due lati e alle estremità e di pronunciare la T. T, il foglio si muoverà da solo perché quando pronunciamo la T inglese c'è emissione d'aria, cosa che non avviene nella T italiana, che è molto, è molto leggera. Infatti il vocabolo italiano toccare, toccare, leggera la T, invece in inglese è touch, touch, take, time, turn, è più forte. Ok, dobbiamo quindi memorizzare come si fa, però questa è la prova che noi abbiamo pronunciato in maniera corretta. Ma come si riproduce in realtà la T inglese, la T del vocabolo time, table, eccetera? La lingua deve rimanere sotto nel palato inferiore e deve, la punta della lingua deve battere dietro i denti inferiori. Io dico sempre ai miei allievi, se suonate mai uno strumento musicale tipo la batteria, ecco, i piatti della batteria quando si chiudono fanno quel suono lì. Ok, io dico anche la T sputata, perché se fate la prova avrete di sicuro sputato lo schermo del vostro computer o del vostro cellulare, per esempio. Ok, questo è tutto per adesso. Ah, vi devo fare lo spelling del mio nome. G-A-B-R-I-E-L-L-A Gabriella My surname is Marturano M-A-R-T-U-R-A-N-O Come notate, nel mio cognome c'è quella famosa T. Ok, questo è tutto. Ci sentiamo per le prossime puntate. Have a nice evening. Buona serata a tutti. Have a nice evening, everybody. O se siete americani o preferite la pronuncia americana, everybody. Bye!